Si è insediata a lunedì scorso il nuovo prefetto di Teramo, Graziella Palma Maria Patrizzi, era alla guida della prefettura ascolana dal Natale del 2011. Sarà il 69esimo prefetto di Teramo, la prima donna in assoluto per la città. Il primo punto da cui partirò sarà proprio la conoscenza del territorio e il rapporto con i sindaci, con i quali spero di stabilire un rapporto sinergico di attività abbastanza forte. Tra gli obiettivi del neoprefetto salvaguardare la legalità attraverso la conferenza provinciale permanente, coordinare al meglio le forze dell'ordine, mediare i conflitti sociali in considerazione del periodo di crisi del tessuto sociale e infine, non per ultimo, verificare il lavoro che viene svolto sul settore immigrazione. Un occhio attento alla legalità e soprattutto alla legalità nell'azione dell'attività amministrativa, nell'azione amministrativa attraverso la conferenza provinciale permanente con tutti a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti che operano sul territorio provinciale. Quindi sicuramente un'attività di sinergia con gli enti e le amministrazioni operanti sul territorio.